Ciao, in questo video ti presento l'evento Ingegneria della Vendita. Durante l'evento Ingegneria della Vendita presento le strategie dei migliori venditori e imprenditori che gli hanno permesso di incrementare la loro percentuale di chiusura al 97%. In questo video in particolare ti presento la strategia di vendita di Ben Feldman, colui che ha venduto 2 milioni di assicurazioni sulla vita. Prima di presentarti la strategia di Ben Feldman voglio comunicarti, condividere con te il fatto che abbiamo due forze all'interno della nostra persona, piacere e dolore. Noi tutti vogliamo andare via dal dolore e vogliamo andare verso il piacere. Adesso ti spiego come Ben Feldman ha utilizzato queste due forze nei clienti per portare la sua percentuale di chiusura al 97%. Ben Feldman era un personaggio abbastanza bizzarro. Andava in giro per la strada con un libro con dei soldi conficcati a caso. Quando lui parlava questi soldi svolazzavano e cadevano via. Un bel modo per attirare l'attenzione delle persone. Nella prima pagina c'era la foto di Ernest Hemingway e diceva Ernest Hemingway è morto. Un'informazione molto forte perché le persone conoscevano la storia di Ernest Hemingway. E girava la pagina, mentre girava la pagina diceva e quando Ernest Hemingway è morto ha lasciato la sua famiglia al verde senza un soldo in mezzo alla strada. Molto diretto, un messaggio molto diretto. E poi continuava Ora anche tu hai una famiglia e potresti morire. Un'immagine molto forte nel suo target, nella persona che lo ascoltava. Che cosa faceva attraverso questo script di vendita? Con l'informazione di Ernest Hemingway e col fatto che lui potesse morire e quindi i suoi figli, le sue persone care, potevano essere in difficoltà creava l'immagine mentale e la sensazione negativa da cui il cliente voleva andare via. E poi grazie alla sua assicurazione sulla vita lui gli forniva la sensazione positiva che generava la sicurezza per lui e per i suoi cari. Ti spiegherò tutte le strategie dei più grandi venditori coloro che avevano la percentuale e hanno la percentuale di chiusura al 97% durante l'evento Ingegneria della vendita. Iscriviti qui al webinar gratuito dove ti presento tutte le fasi della vendita e la mappa mentale del tuo cliente per incrementare anche te la tua percentuale di chiusura al 97%. Inserisci qui la tua migliore mail inserisci qui il tuo miglior telefono e registrati al webinar gratuito. Io ti aspetto in aula. Ciao!